Ehi! Sto parlando con te, Pinkamica! Sì, sì, proprio con te! Te che sei seduta sul divano! Lo sai che quest'anno non hai scuse per non venire alla Pink Run? Tutti gli anni te ne sei inventata una di nuova! Non sono preparata, sono troppi chilometri per me, tanto piove! Beh, quest'anno abbiamo preparato una novità alla quale non potrai dire di no! Ci siamo inventati di farti correre per beneficenza per soli 50 metri! Hai capito bene! Solo 50 metri in tutta sicurezza all'interno del nostro village! Domenica 30 agosto, vieni in Prato della Valle, ritira il tuo pacco corsa e poi sfida le tue amiche lungo il percorso che ti abbiamo preparato! Quest'anno davvero non hai scuse per non venire alla Pink Run, perché niente può fermare la nostra voglia di aiutare gli altri! Ti aspettiamo alla Pink Run, domenica 30 agosto, in Prato della Valle! Grazie a tutti!